Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Adriano Celentano risponde a Teo Teocoli. Non rispondo al telefono perché ti voglio bene. Il mese scorso Teo Teocoli si era sfogato con i fan per il fatto che Adriano Celentano non rispondeva al telefono, arrivando addirittura a pensare che il cantante potesse essere morto. Tuttavia, Celentano ha deciso di replicare al suo amico con un post su Instagram. Nel post, Celentano ha chiarito che non risponde al telefono non perché non gli importa di Teocoli, ma proprio perché gli vuole bene. Ha ricordato le risate che hanno condiviso insieme e ha scherzato sul fatto che spesso era lui a sbagliare le battute nei loro sketch comici. Teocoli, durante un'intervista a Tintoria, aveva raccontato di come fosse diventato amico di Celentano sin da quando era giovane e di quanto fosse importante per lui. Aveva espresso il suo dolore nel non riuscire più a comunicare con il cantante, sospettando addirittura che potesse essere morto. Celentano ha voluto rassicurare il suo amico che non c'è nulla di cui preoccuparsi e che il motivo per cui non risponde al telefono è proprio perché gli vuole bene. La risposta del cantante ha rassicurato Teocoli e ha messo fine alle voci che circolavano sulla sua presunta scomparsa. In conclusione, Celentano ha voluto ribadire il suo affetto per Teocoli e ha scherzato sul fatto che, se proprio vuole, può chiamarlo, ma lui non risponderà. Grazie a tutti!